Canale YouTube di Luigi Gaglio Clima, un'emergenza globale Come vedete, per la spiegazione di oggi mi sono fatto aiutare un po' da internet dove ho trovato una tesina, insomma, di un nostro compagno di quinta o di un'altra scuola di quinta e poi mi sono fatto aiutare ovviamente dal nostro libro di testo Storie e luoghi, secondo volume, edizione Pearson e di Meschini Persico Si tratta, come vedete oggi, di un argomento molto, molto importante Parliamo oggi, infatti, del clima La vita sul pianeta Terra è resa possibile da un equilibrio molto delicato che mantiene sulla sua superficie, adatte allo sviluppo, tutte quante le forme viventi Ma questo equilibrio si può alterare Il clima sulla Terra Non è sempre stato lo stesso Anzi, nel corso del tempo ci sono stati forti cambiamenti climatici Gli studiosi di Storia del Clima ritengono che durante i suoi 5 miliardi di vita la Terra ha conosciuto una successione di periodi caldi e di periodi freddi e i periodi freddi sono chiamati appunto glaciazioni Insomma, come abbiamo detto, l'equilibrio instabile è quello su cui poggia il clima nel nostro pianeta, quel clima che permette la vita C'è una differenza fra l'energia termica che il pianeta riceve dal Sole è quella che viene riflessa nello spazio ed è determinata dalla composizione dell'atmosfera terrestre Per esempio, ci sono dei pianeti in cui non c'è l'atmosfera per esempio come il pianeta Marte o è estremamente rarefatta l'atmosfera nel pianeta Marte e allora sul pianeta Marte la temperatura media è di circa 40 gradi sotto lo zero è possibile la vita in un pianeta dove c'è una temperatura di 40 gradi sotto lo zero oppure in altri pianeti l'atmosfera è troppo densa è il caso per esempio di Venere pensate che sulla superficie di Venere si raggiungono temperature intorno ai 450 gradi si può vivere in un pianeta in cui la temperatura è di 450 gradi? Bruceremmo tutti insomma adesso quindi diciamo noi abbiamo però non una come dire il nostro clima e le nostre temperature non è che siano rigide, fisse ci sono stati dei periodi questi periodi diversi sono chiamati appunto glaciazione la più recente glaciazione è terminata circa 10.000 anni fa la fine dell'ultima glaciazione ha determinato dei cambiamenti climatici importanti anche molto positivi per l'uomo perché è anche grazie a questo che è nata l'agricoltura durante quella glaciazione si abbassò il livello degli oceani e questo permise la nascita di un ponte di terra tra l'America e l'Asia dove ora si trova lo stretto di Bering quindi quando c'era quest'ultima glaciazione fu possibile addirittura alle popolazioni umane di passare dall'America all'Asia il collegamento dei continenti asiatico-americano permise il passaggio di uomini e animali appunto dall'Asia all'America poi però terminata la glaciazione questi ghiacci si ritirarono e quindi non ci fu più questo passaggio dove c'è appunto adesso lo stretto di Bering non puoi più passare o puoi passarci solamente con le navi benissimo ecco l'ottimo climatico le variazioni climatiche hanno sempre avuto forti conseguenze sulla vita dell'uomo è il caso di un lungo periodo di clima mite chiamato l'ottimo climatico medievale questa fase riguardò la zona nord atlantica e durò a lungo dal IX al XIV secolo oltre a favorire le coltivazioni e quindi il popolamento l'ottimo climatico facilitò i viaggi e le esplorazioni gli storici per esempio lo mettono in diretta relazione con la colonizzazione della Groenlandia da parte dei vichinghi che si avvantaggiarono del parziale ritiro dei ghiacci nell'immagine che adesso facciamo vedere la tipica imbarcazione vichinga del Drakkar ecco l'ottimo climatico noi storici o quantomeno io non sono un accademico noi che studiamo storia ci mervegliamo del fatto che ci sia una grande differenza fra l'alto medioevo e il basso medioevo e ci chiediamo ma com'è possibile che nell'alto medioevo ci fosse così tanta miseria e quindi anche difficoltà a vivere e invece nel basso medioevo ci sia stata una fioritura e stiamo lì a scervellarci un po' e pensiamo per esempio all'anno 1000 la paura dell'anno 1000 magari anche gli aspetti climatici hanno avuto il loro peso nel senso che nei secoli che precedettero il 900 e il 1000 la situazione climatica era un po' difficile e invece poi ci fu questa quest'epoca che favorì anche le esplorazioni i viaggi ecco per esempio poi i vichinghi non poterono più andare in Groenlandia ecco ci furono dei secoli in cui i vichinghi si spostarono in Groenlandia e addirittura se noi badiamo per esempio alla lingua di queste popolazioni nordiche la chiamarono così la terra verde infatti Groenlandia Groenland è una parola che vuol dire terra verde che cosa è successo dopo? dopo è finito quest'ottimo climatico e la Groenlandia è ghiacciata di nuovo anzi è ghiacciata così come la possiamo vedere adesso e quindi non è più una terra verde ma una terra bianca la Groenlandia se ci andassimo adesso allora sono andati i vichinghi appunto a colonizzare voglio dire a esplorare meglio questa terra e l'han chiamata così la terra verde poi sono andati nell'attuale Labrador e l'han chiamata Vinland la terra del vino anche adesso se andassimo nel Labrador vedremmo che di vino non ce ne può essere molto perché anche il Labrador oggi come oggi è molto freddo oggi le temperature sono troppo basse nel Labrador perché crescano le viti anche l'abbandono da parte dei vichinghi di queste terre è legato ai cambiamenti climatici il raffreddamento iniziato nel XIV secolo le rese infatti inospitali mentre le rotte per raggiungerle erano diventate più pericolose dall'aumentata presenza di ghiacci e ancora una volta noi storici siamo lì a cervellarci un po' sulla crisi del Trecento come mai nel 1300 c'è questa grave crisi? ci sono state le pesti le epidemie e forse c'è stata anche la fine di questo periodo dell'ottimo climatico adesso sto un po' esagerando forse però c'è un rapporto fra storia e geografia cioè intendo dire fra la vicenda dell'uomo e l'ambiente che lo circonda noi non siamo così indipendenti da questo legame molto forte infatti stavamo dicendo alla fine di questo periodo dell'ottimo climatico si è creata una piccola era glaciale in questa fase dal 1300 in poi che interessò l'emisfero settentrionale tra il XIV e il XIX secolo le temperature medie si abbassarono rispetto ai secoli precedenti tra le molte conseguenze sulla vita dell'uomo la piccola era glaciale portò a una diminuzione dei raccolti è un impoverimento generale la gente moriva di freddo stiamo lì a leggere per esempio i romanzi sull'ottocento e vediamo che ci raccontano i romanzi ottocenteschi bravissima e vediamo che ci raccontano questi romanzieri della gente che muore di freddo e noi pensiamo ma sì perché sono romanzieri russi perché in Russia faceva freddo ma non è detto c'era proprio anche la piccola era glaciale c'è stata la piccola era glaciale cioè sono stati dei secoli dal 1300 al 1800 in cui si erano diminuite le temperature testimonianze di questo periodo freddo si possono vedere anche in alcuni quadri dell'epoca come in questo paesaggio olandese dipinto nel 1565 da Peter Bruegel il vecchio come vedete ci dipinge proprio un paesaggio invernale magari è in posti in cui adesso come accade anche diciamo nelle nostre attitudini a dire la verità d'inverno non nevica più e invece allora evidentemente ghiacciavano i laghi eccetera non siete convinti? volete vedere un altro quadro? eccolo qua un altro quadro la laguna di Venezia gelata in un quadro anonimo del XVII secolo quando mai la laguna di Venezia oggi come oggi è gelata semmai abbiamo l'acqua alta ma non non si è mai verificato in questi ultimi in questi ultimi decenni come? ai 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 se si rompe il ghiaccio mentre pattini è un problema eh sì perché quando tu cadi in quella buca che si è creata poi fai molto fatica a ritrovare esattamente il punto esatto da cui sei caduta e quindi e quindi muori va bene stavamo dicendo quindi attenzione però fino adesso che cosa abbiamo detto fino adesso che questo equilibrio instabile può essere mutato a causa dell'ambiente stesso delle variazioni delle temperature è glaciazioni è fine delle glaciazioni è periodi un pochettino più freddi glaciali piccole età glaciali oppure ottimi climatici da adesso in poi però che cosa dobbiamo dire soprattutto a partire dal ventesimo e dal ventunesimo secolo ai 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 dobbiamo dire che è molto importante anche l'influenza dell'uomo a quanto pare nell'ultimo secolo abbiamo scoperto che anche l'uomo può influenzare questi cambiamenti climatici molti scienziati ritengono che la terra stia vivendo oggi un periodo interglaciale continuando il nostro discorso Vittoria scusa Vittoria stavamo parlando prima della piccola era glaciale metti via quella ecco sì quel dispositivo elettronico ecco sì sì bravo bravo bravissimo no no d'accordo d'accordo stavo dicendo la piccola era glaciale è finita con il 1900 diciamo così con il diciannovesimo secolo e quindi è iniziata un'era interglaciale quindi possiamo dire non era un po' più calda è tutto dovuto è tutto causato dal clima da solo l'ambiente la terra da solo no c'è anche l'intervento dell'uomo infatti più di quanto sia mai accaduto in passato questi processi naturali risentono oggi dell'azione umana ci sono molti fattori che come dire influenzano la temperatura media della terra i cambiamenti dell'orbita terrestre le fluttuazioni delle emissioni di energia del sole l'inclinazione dell'asse terrestre ebbene tutti questi fattori possono portare a queste ere glaciali o interglaciali ma nell'ultimo secolo è successo qualcosa cioè l'azione antropica dell'uomo ha influenzato notevolmente anche il cambiamento delle temperature e quindi l'innalzamento delle temperature è quello che noi diciamo con una parola è il cosiddetto riscaldamento globale nell'ultimo secolo infatti l'attività umana ha contribuito ad aumentare le temperature alcuni studiosi ritengono che l'aumento della temperatura abbia aggravato le conseguenze di alcuni fenomeni meteorologici per esempio gli uragani tra il 1989 e il 2005 l'oregano Mitch e l'oregano Wilma hanno fatto segnare nuovi record in termini di velocità dei venti e quantità di piogge riversate nel bacino atlantico dicevamo che è un equilibrio instabile abbiamo visto quali sono anche gli effetti negativi ovviamente delle glaciazioni sull'uomo e quelli positivi dei periodi interglaciali adesso siamo in un periodo interglaciale giusto quindi siamo in un periodo ottimo come l'ottimo climatico vi ricordate di quei secoli del basso medioevo ahiaiai però attenzione se si esagera nell'altro verso cioè se le temperature aumentano troppo ci sono delle ripercussioni anche negative in quel senso perché noi siamo come su un asse di equilibrio un po' instabile e certe volte cerchiamo di cadere da una parte ma se poi ci sporgiamo troppo dall'altra e cadiamo dall'altra parte so se ho banalizzato un pochettino troppo il discorso ma vi ho introdotto al concetto del riscaldamento globale che cos'è riscaldamento globale dicevamo per esempio il fatto che questo inverno non abbia nevicato per niente alle nostre temperature nelle pianure lombarde un tempo nevicava sempre tutti gli inverni questo inverno non ha provocato per niente insomma abbiamo delle alterazioni tutto questo provoca degli effetti sulla salute le temperature si alzano troppo le piogge migrano e quelle che sono delle zone in cui pioveva sempre adesso stanno diventando delle zone quasi aride il clima estremizzato vuol dire quindi che certi fenomeni che magari comparivano adesso sono frequenti e portati alle estreme conseguenze c'è lo scioglimento dei ghiacciai e l'aumento del livello dei mari questa è la conseguenza che possiamo vedere e verificare addirittura poi vi farei vedere delle foto su questo scioglimento dei ghiacciai chi è che è parlato per prima del riscaldamento globale un certo Svante Arrenius fu il primo a sostenere che la combustione di combustibile fossile di carbone per esempio per il riscaldamento provocava un aumento del riscaldamento globale pensate che eravamo ancora nell'Ottocento alla fine dell'Ottocento fu elaborata questa teoria del riscaldamento globale ecco questo Arrenius propose una relazione fra la concentrazione di anidride carbonica e la temperatura atmosferica definì il problema dell'alterazione dell'effetto serra e denunciò che un raddoppio della concentrazione di CO2 porterebbe a un aumento termico di 5 gradi centigradi accusò responsabile di tale alterazione le attività umane che aggiungono anidride carbonica all'atmosfera attenzione l'effetto serra di per sé non è qualcosa di tanto negativo nel senso che il sole ci manda i suoi raggi giusto e poi noi rischiamo di perdere il calore la forza l'energia di questi raggi se non avessimo l'atmosfera quindi l'atmosfera che faccia un po' questo effetto serra è una cosa buona perché mantiene un po' questo calore altrimenti avremmo quelle temperature di Marte vi ricordate 40 gradi sotto zero ma se questo effetto serra aumenta indiscriminatamente allora non è più così tanto positivo capite quello che aveva già intuito questo studioso è il global warming riscaldamento globale all'inglese si dice global warming l'aumento nel tempo della temperatura media dell'atmosfera terrestre e degli oceani ragazzi se questo equilibrio si rompe per sempre poi non ce n'è più per nessuno non c'è un pianeta di riserva ragazzi non c'è la seconda casa il secondo pianeta ne abbiamo uno solo noi quindi dobbiamo tenercelo buono questo ecco dicevamo che questo del riscaldamento è un effetto normale già avvenuto in passato ma oggi è più accelerato e forse troppo accelerato perché così accelerato ecco osserviamo questo grafico ad esempio l'innalzamento eccessivo delle temperature in quest'ultimo secolo vedete ci sono stati c'erano delle epoche in cui le temperature un po' si alzavano un po' si abbassavano in modo abbastanza normale regolare piatto e poi questo picco straordinario ai 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 queste temperature si stanno alzando troppo ppm vedete questa sigla qua ppm bene osserviamo queste due sigle co2 è l'anidride carbonica nel senso che l'anidride carbonica aumenta un po' troppo l'anidride carbonica è tipicamente il primo gas serra cioè è il gas che è un come dire è quello che aumenta questo effetto questo effetto serra ebbene l'anidride carbonica è aumentata da un valore di circa 280 ppm ppm vuol dire parti per milione nell'epoca preindustriale fino a 400 ppm lo vedete vedete 180 290 anche per carità ma poi andiamo a 390 andiamo a 400 ppm cioè 400 parti per milione nel 2013 questo favorisce l'aumento dell'effetto serra di conseguenza l'innalzamento delle temperature sulla superficie terrestre con delle temperature che si innalzano di un grado dice che cosa vuoi che sia un grado non so da 13 gradi a 14 gradi ma se noi invece generalizziamo il fenomeno in tutto quanto su tutta quanta la terra ci sono delle conseguenze che potrebbero mettere a rischio addirittura la presenza della vita sul nostro pianeta quindi non c'è assolutamente da ridere su queste cose qua c'è un aumento della concentrazione atmosferica di circa due parti per milione all'anno oggi siamo a 380 dice questa slide ma il nostro libro dice ormai ci stiamo avvicinando a 400 ecco questo è dovuto all'aumento del consumo di combustibili fossili esempio il gas il petrolio il carbone abbiamo cercato di limitare queste cose ma ce ne sono ancora troppi l'attività umana ha ridotto la biomassa vegetale in grado di assorbire la CO2 l'anidride carbonica per esempio con la deforestazione e con l'inquinamento delle acque cioè c'erano delle delle barriere naturali a questo aumento dell'anidride carbonica oltre la CO2 ci sono altri gas serra per esempio il metano aumentato in atmosfera per un incremento dell'allevamento intensivo e delle colture a sommersione esempio riso il metano viene generato anche dagli animali ecco perché dice l'allevamento intensivo e questo quindi ha creato altre alterazioni altro gas serra il vapore acqueo in aumento causa l'incremento delle temperature globali il mare le terre ossido nitroso e ozono ecco il buco nell'ozono adesso parleremo anche di questo l'ozono era importante e sta diminuendo tutto questo porta all'alterazione dell'effetto sera che cos'è l'effetto sera beh l'effetto sera è il riscaldamento degli strati inferiori dell'atmosfera terrestre causato dall'assorbimento da parte di alcuni gas dell'atmosfera della radiazione infrarossa emessa dalla terra una sorta di rimbalzo nel senso che i raggi del sole attraversano l'atmosfera riscaldano la superficie terrestre dalla superficie terrestre il calore si irradia nell'atmosfera sotto forma dicevamo appunto di queste radiazioni infrarosse ebbene circa il 30% delle radiazioni infrarosse si perde nello spazio in condizioni naturali il 70% invece della radiazione infrarossa è assorbito dal vapore acqueo e dagli altri gas serra che agiscono come dei pannelli di vetro in una serra insomma intrappolando il calore e riflettendolo di nuovo sulla superficie terrestre quando aumenta la concentrazione dei gas serra in atmosfera cresce la quantità di calore intrappolato e riflesso gli oceani si riscaldano e liberano più vapore acqueo che a sua volta può incrementare l'effetto serra e allora invece di trattenere il 70% di questa radiazione infrarossa se ne trattiene di più il 71 il 72 il 75 l'80% e questo proseguendo con queste alterazioni può creare grossi problemi quindi aumenta la temperatura sulla terra certo la temperatura alta è buona per la presenza della vita sulla terra ma se aumenta troppo ecco diciamo che abbiamo delle alterazioni qui abbiamo delle percentuali importanti riguardo appunto l'assorbimento della radiazione infrarossa ecco le alterazioni dell'effetto serra l'aumento di gas la serra ha distrutto l'equilibrio come dicevamo si sciolgono i ghiacciai l'ecosistema si altera il ciclo appunto del carbone quali sono quindi le conseguenze del riscaldamento globale crescono troppo le temperature le piogge si spostano da un paesaggio climatico ad un altro il clima è estremizzato gli ghiacciai si sciolgono aumenta il livello dei mari e tutto questo anche provoca effetti sulla salute la temperatura media della terra che negli ultimi mille anni era stata circa costante nel corso del ventesimo secolo è aumentata di 0,6 gradi considerando dati raccolti dal 1861 fino ad oggi gli anni tra il 1990 e il 2000 sono stati la decade più alta e il 2003 l'anno più caldo in assoluto quali sono le conseguenze 1 la copertura nevosa è diminuita del 10% dal 1960 ad oggi si è avuto un ritiro generalizzato dei ghiacciai 2 aumento degli eventi violenti del tempo e del clima estremizzazione del clima alluvioni inondazioni più numerose episodi di nigno via via più intensi e duraturi temporali più violenti alle medie latitudini tempeste violente di vento nel nord Europa il livello dei mari a causa dello scioglimento dei ghiacci polari è cresciuto di 10-20 cm nel corso del XX secolo altre conseguenze? beh possiamo vedere in questa cartina cambiamento delle temperature medie a un aumento generale abbiamo detto circa un grado di temperature nell'ultimo secolo poi ancora temperature in crescita dicevamo guardiamole con questi grafici che sono un pochettino più chiari allora osserviamo qua qua in fondo vedete gli anni 1880 1900 1920 eccetera eccetera come vedete nel passaggio fra 1800 e 1900 le temperature erano basse generalmente parlando insomma qualche grado in meno rispetto ad oggi un grado in meno poi man mano si sono alzate si sono alzate si sono alzate sempre di più fino ad arrivare intorno agli anni 2000 a questo picco e il grafico si ferma lì ma il riscaldamento globale è continuato anche negli anni successivi al 2000 qui abbiamo altri planisferi che ci mostrano la situazione delle temperature nel 1884 era un anno è stato un anno abbastanza freddo come vedete e invece negli anni seguenti ci sono stati innalzamenti delle temperature il clima del prossimo futuro è legato soprattutto all'evoluzione delle emissioni di gas serra in particolare della nidride carbonica cioè la CO2 si provvede entro la fine del secolo una concentrazione quasi doppia della CO2 atmosferica questo porta a un aumento della temperatura media allo stravolgimento della circolazione generale dell'atmosfera a un'instabilità climatica l'incremento dell'effetto serra e quindi anche un progressivo ulteriore innalzamento della temperatura media del pianeta porterà nel 2080 ragazzi nel 2080 io non ci sarò però voi ci sarete e quindi pensate che incominciate a preparare io ho sempre caldo ma nel 2080 ci sarà una temperatura media forse di un grado e mezzo tre forse addirittura quattro gradi centigrafi centigradi scusate più alta rispetto ad oggi eh sarà impossibile altro che aprire le finestre e le porte dell'aula non ce la faremo più ecco qui vedete l'aumento di temperatura sulla terra previsto per il 2100 se raddoppia l'anidride carbonica come vedrete avremo una variazione un aumento delle temperature medie sulla terra abbiamo già detto di uno due tre forse addirittura quattro gradi centigrafi centigradi mamma mia è già la seconda volta che sbaglio in più ecco un altro grafico di quello che potrebbe avvenire di quello che è già avvenuto no in questi anni e di quello che potrebbe avvenire ancora di più se si concentrano questi gas serra se aumenta questo effetto serra la migrazione delle piogge cioè le piogge che si spostano in altre zone e zone in cui pioveva molto potrebbero diventare delle zone in cui piove molto di meno l'effetto serra più intenso significherà maggiore quantità di energia a disposizione all'interno dell'atmosfera l'atmosfera ne risulterà stravolta e cambieranno posizione i grandi centri di alta pressione quindi anticicloni diciamo così e di bassa pressione le zone cicloniche dove si concentrano le perturbazioni diminuiranno le piogge aumenteranno invece tornado trombe d'aria più violenti e frequenti ci saranno più naufragi e il nigno sarà più intenso i monsoni saranno più piovosi ci saranno alluvioni periodi di siccità duraturi incendi tempeste di sabbia frane e smottamenti ecco quindi ragazzi ogni tanto noi vediamo al telegiornale diciamo violenti fenomeni atmosferici che non ci sappiamo spiegare alcuni studiosi dicono guardate che una spiegazione c'è ed è anche l'intervento dell'uomo che ha alterato gli equilibri del pianeta qui abbiamo una variazione delle precipitazioni invernali presunta dal 2000 al 2010 e anche le nostre latitudini in Italia in cui come vedete nel 2000 comunque abbiamo delle piogge frequenti potranno diventare delle zone soprattutto poi sud Italia in cui ci sarà una notevole diminuzione delle precipitazioni atmosferiche scioglimento dei ghiacciai aumento dei livelli dei mari scioglimento di grosse porzioni della banchisa polare di 40-60 centimetri all'anno produzione di acque profonde nel nord atlantico inceppando la corrente del golfo tutto questo potrebbe portare a una glaciazione entro la fine del secolo il livello dei mari potrebbe crescere ovunque tra 100 e 190 centimetri perché si scioglieranno grosse porzioni dei ghiacci polari e quindi certe zone in cui adesso noi abbiamo dei porti saranno invase dal mare facciamo così vediamo delle foto delle foto che ci mostrano foto d'epoca in cui certe zone certe valli erano occupate da ghiacciai e adesso che i ghiacciai si sono ritirati foto recenti in cui vediamo che al posto dei ghiacci adesso ci sono le erbe sono i prati non ci credete? volete vedere altre foto d'epoca? questa è una foto d'epoca presso un rifugio alpino e qui vedete la lingua del ghiacciaio adesso non c'è più niente si è ritirato tutto e abbiamo questa montagna completamente spoglia di neve di ghiacci insomma non ci credete ancora? volete vedere un'altra foto d'epoca? eccola qua guardate il ghiacciaio come si è ritirato qui come era in questa fotografia d'epoca e adesso come si è ritirato in questa altra fotografia non ci credete ancora? guardate questa lingua di ghiacciaio qualche decennio fa adesso niente erba prati fiori ok ci credete va bene comunque insomma questo è il nostro ragazzi il nostro come si chiama? ah sì esaminando questo maturando che ha fatto questa tesina e che ha raccolto tutte queste fotografie in cui come vedete ci sono queste variazioni climatiche visibili ad occhio nudo confrontando fotografie d'epoca con le fotografie attuali gravi effetti sulla salute aumento del rischio di epidemia di diarrea nei bambini uno studio effettuato su più attenzione anche se suona la campanella finiamo la spiegazione uno studio effettuato su più di 50.000 bambini di Lima in Peru fra il 93 e il 98 ha evidenziato che per ogni grado di aumento della temperatura i casi di bambini ricoverati per dissenteria è cresciuto dell'8% si teme inoltre per un ritorno della malaria in paesi dove si riteneva definitivamente debellata come l'Italia in Italia c'è la malaria nuove allergie problemi di salute non solo umani l'intera specie di animali a rischio compresi vegetali esempio il rischio di estinzione degli orsi polari l'habitat naturale di questi animali sta scomparendo adesso scusate facciamo così questa slide è un pochettino troppo ricca ecco quindi ve la leggete da soli però notate che anche in Italia potrebbero essere esserci scenari apocalittici catastrofici e comunque di gravi cambiamenti climatici se continua ad esserci questo riscaldamento globale esempio più alluvioni dissestamenti ondate di caldo prolungato fenomeni temperaleschi sempre più violenti e qui abbiamo letto solamente quello che potrebbe avvenire in Italia ma come vedete gravi conseguenze anche in altri stati e in altri continenti non tutti gli studiosi sono d'accordo alcuni dicono ma no ma minimizzano la portata di questo riscaldamento globale e dicono che il riscaldamento globale fa parte di un ciclo regolare della nostra terra come abbiamo visto anche parlando prima dell'ottimo climatico ma la maggior parte degli studiosi dicono attenzione stiamo esagerando e questo anche l'intervento antropico dell'uomo può portare a gravissime conseguenze cosa si è fatto allora si è capito che dobbiamo cercare nuove fonti per produrre energia senza inquinare o quasi senza inclinare è stato fatto il protocollo di Kyoto le Nazioni Unite si sono riunite appunto ancora nel 1987 un altro protocollo quello di Monreal sono stati vietati i clorofluorocarburi che avevano sottigliato l'ozono fino a creare un vero e proprio buco nell'ozono sopra l'Antartide è uno un pochettino meno grande anche sopra l'Artide sono state fatte conferenze incontri internazionali ecco quindi dobbiamo attenzione things to do allora pensa cosa fare anche tu nel tuo piccolo non pensare scusami è che questi siano argomenti che riguardano solo Sofia che riguardano solo grandi paesi e nazioni riguardano anche te le tue scelte quindi per esempio cambia le lampadine che possiedi con lampadine che hanno un impatto meno forte ad esempio quelle led oppure usa meno la macchina vai più in bicicletta poi prendi una macchina ibrida non a diesel ma ibrida o meglio ancora elettrica ricicla di più il nostro piccolo contributo ragazzi quando facciamo la raccolta differenziata usa l'acqua calda con moderazione e anche riscaldamento poi aggiusta il livello dei termostati di casa non mettere il termostato a 22 gradi bastano 19 o 20 gradi isola termicamente la casa pianta alberi non abbandonare i rifiuti in giro spegni gli apparecchi elettronici spegni quell'apparecchio elettronico lì oh quando non si utilizzano quando non servono spegni gli apparecchi elettronici usa le energie rinnovabili finiamo la nostra spiegazione con una bella poesia di George Byron un poeta dell'ottocento il quale assiste ad un fenomeno naturale violento un'eruzione vulcanica l'eruzione vulcanica del Tambora nel 1815 e lo scrisse questa poesia non confondiamo questa poesia con la I have a dream di Martin Luther King Byron invece scrisse I had a dream ho avuto un sogno che in realtà è un incubo I had a dream which was not all a dream ho fatto un sogno che non era tutto un sogno the bright sun was extinguished and the stars did wander darkly did walk wander darkly in the eternal space il sole splendente si estingueva e le stelle vagavano oscure nello spazio senza fine rayless senza raggi and pathless senza scopo senza una strada e la terra gelida oscillava cieca e si anneriva nell'aria senza luna il mattino andava e veniva andava e veniva e non portava dopo di sé il giorno che non brillava più il giorno e gli uomini dimenticavano le loro passioni nel terrore of this their desolation di questa loro desolazione and all hearts were chilled into a selfish player for light e tutti i cuori furono gelati in una preghiera disperata in una preghiera solitaria per la luce for light bene grazie ragazzi abbiamo terminato così la nostra spiegazione altri video didattici su a tuttascuola.it grazie a tutti